Il sindaco di Bungo, Davide Ranalli, che lo ritroviamo a compiunturazione in modo vendetta rispetto ai diritti attuali, perché si parla di taglia la cultura e il sindaco Ranalli dice che ha incentivato in fronte della cultura, portando in fronte a 100.000 euro quello che si spende nel suo comune per valutare il suo settore. Ci racconti per te, Sindaco? Molto grazie per l'invito. Credo che la cosa più incredibile di tutta questa vicenda è che una cosa che dal mio punto di vista era normale, dovuta a qualsiasi amministratore, avrebbe il dovere di investire su questo settore, si è diventato quasi una fenomenologia, si è diventato una cosa stranissima, articoli sulla stampa nazionale, la cosa mi ha un po' colpito perché io mi ero ripromesso quando mi sono candidato a fare il sindaco che la città di Bungo, che è una città abbastanza piccola, 35.000 abitanti, con una storia importante in cui il teatro e la musica avevano avuto un'influenza dal mio punto di vista molto importante, dovesse tornare, io l'ho coniato con questo slogan, all'altezza della propria emozione e quindi mi sono posto il tema di come e di quale era lo strumento con il quale Lugo avrebbe in qualche modo ricominciato a correre e ho ritenuto che la cultura, il teatro, ma non solo, potessero diventare elementi identitari della storia di quella città. E quindi oggi ho sentito parlare di innovazione, una cosa molto bella, credo anche per un amministratore giovane, tuttavia io ho fatto un'operazione che non ha nulla di innovativo perché sono semplicemente tornato indietro, sono semplicemente ritornato ad investire in quel settore esattamente come si investivano i sindaci di qualche decennio fa. E anche qui come è stato possibile fare tutto questo? È stato possibile in una modalità che è semplice sotto un certo punto di vista ma che ha comportato un certo lavoro, una certa fatica. Per esempio quello di andare a prendere i bilanci degli ultimi 3-4 anni del Comune di Lugo, posta per posta, andando a guardare laddove per esempio la distanza che vi era tra i bilanci di previsione e invece il bilancio consultivo tutti quei margini, cioè la somma di quelle risorse, si sono trasformati nel giro di 6-8 mesi con un lavoro molto pulato da parte soprattutto delle ragionerie, i risparmi e tutti quei risparmi che appunto ammontano a circa 800.000 euro, stiamo parlando sui 786.000 euro, che sono esattamente tre volte quello che investiva la Giunta che mi ha preceduto, li abbiamo messi tutti per la cultura. Facendo che cosa? Facendo un'operazione di lettura di una cultura che non è solamente una cultura che si fa con il teatro, quindi alta. Abbiamo investito in questo festival della musica barocca che è tradizionalmente qualcosa che a Lugo si è sempre fatto, abbiamo chiamato il più grande esperto di musica barocca in Europa, che è Rinaldo Alessandrini, che è la persona diciamo più quotata in questo momento, l'abbiamo chiamato a fare il direttore artistico di questo nuovo festival del barocco, ma abbiamo anche scelto parallelamente di investire un numero importante di risorse anche nella letteratura, nelle arti visive, nel cinema, cioè abbiamo fatto un'operazione che non fosse un'operazione diciamo così di edit, perché secondo me oggi fare innovazione significa prima di tutto cercare di costruire, di fare capire che la cultura è un elemento che deve e che può essere accessibile. Ecco, questa è la straordinaria innovazione che abbiamo fatto. A me personalmente non pare più così straordinaria. È straordinaria purtroppo in un clima nel quale lo sguardo che in questi anni è stato rivolto al tema della cultura, al tema dell'innovazione, anche al tema dei giovani è stato oggettivamente abbastanza contraddittorio e non costante. Quindi forse il vero elemento di innovazione è stato semplicemente metterci del coraggio, che oggi è una parola che anche grazie, mi permetto di dire, al nostro governo nazionale stiamo cercando di riportare nelle sede della politica e nelle sede dell'amministrazione. Ritengo che forse anche questa nuova generazione dell'amministratore, cui io appartengo, così come la nuova generazione anche di deputati e credo che il rinnovamento sia stato fatto e chi nega questo probabilmente non riesce a leggere la società con gli occhi di quello che è coerente con quello che stiamo vivendo. A me pare che questa nuova generazione si stia impegnando in questo verso. Noi l'abbiamo fatto, continueremo a farlo, stiamo predisponendo un nuovo bilancio di previsioni in cui non metteremo e non caleremo risorse sulla cultura, anzi, grazie a questo progetto che abbiamo svolto sul Settecento stiamo portando a casa, questo secondo me è un punto interessante che credo sia anche importante nel dibattito di oggi, risorse dal punto di vista risorse europee, perché stiamo iniziando a collaborare con i teatri della Svizzera con qualche teatro francese, quindi stiamo veramente riportando questo piccolo teatro di oltre 480 posti a dialogare con teatri più importanti e questo ci consente di strutturare dei progetti che possono a livello europeo attrarre ulteriori risorse. Quindi paradossalmente questo è stato un vero e proprio investimento, perché ci hanno consentito appunto di portare a casa nuove risorse. Io spero che possa essere un esempio importante, però vorrei che alla fine di questo percorso un'operazione come questa non suscitasse il clamore che forse in parte fortunatamente ha suscitato, ma che diventi la normalità. Io me lo auguro e spero che la giornata di oggi ci aiuti anche a far entrare questo nei nostri ragioni.